In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò qual è il primo di tutti i comandamenti. Gesù rispose il primo è ascolta Israele il Signore nostro Dio è l'unico Signore amerai il re tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo amerai il tuo prossimo come te stesso non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse hai detto bene maestro e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui amarlo con tutto il cuore con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente Gesù gli disse non sei lontano dal regno di Dio e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.